Il Teramo oggi scenderà in campo al Bonolis alle 17.30 contro il Cesena in grande emergenza con otto assenze, sette infortunati e lo squalificato Mungo. La società per fronteggiare l'emergenza è corsa ai ripari e ha tesserato con un contratto fino a giugno lo svincolato centrocampista Mattia Lombardo, classe 95, ex di diverse squadre come Monopoli, San Benedettese, Siena e Reggiana. Lombardo, figlio di Attiglio, che ha giocato nella Sampdoria, ha svolto la rifinitura con i nuovi compagni e potrebbe già esordire dal primo minuto contro il Cesena. Servirà una grande prova da parte del Diavolo per provare a centrare il sesto risultato utile di fila e Guidi in conferenza lo ha ribadito. A me è una partita che mi stimola parecchio perché nelle difficoltà poi si vede davvero di che pasta sei fatta e quindi sono estremamente curioso. Non è da escludere l'ipotesi di un cambio di modulo con il lancio della difesa a tre, se Soprano dovesse dare le giuste garanzie fisiche di scendere in campo. In panchina ci sarà il vice Andrea Cupi, vista la squalifica di Guidi, insieme al preparatore dei portieri di Fiore e Gatta. Il Cesena è imbattuto in trasferta con un bottino di quattro successi e un pareggio ed è un avversario ostico. Viali dovrebbe giocare con il 4-3-2-1. Dall'inizio potrebbero trovare spazio i due ex Carlo Ilario e Steffè, l'altro ex è Zecca ma partirà dalla panchina.